Per chi soffre di stress, di tachicardia, pressione alta, è molto teso e stressato, potete provare queste due manobre. Mi raccomando però prima andate dal medico a verificare che non ci sono problemi più gravi sotto, sono sempre parti del corpo molto molto delicate, nel caso in cui il medico vi dica vai tranquillo, è solo stress e ansia, provate queste cose. A livello dell'angolo mandibolare, posteriormente e inferiormente, troviamo il seno carotideo. Eseguiamo un massaggio con due dita a livello del seno carotideo, in questo modo 20 secondi di massaggio e 10 di pausa per 5 volte. In più, poi applichiamo del ghiaccio, del freddo a livello del collo per 30 secondi massimo, per 3 volte 30 secondi, piccola pausa, 30 secondi per 3 volte e vedrete che starete subito meglio.